Con apposito decreto il sindaco di Ponte Gagnano Faiano Giuseppe Lanzara ha revocato l'assessore all'ambiente Carmine Spina. La decisione è legata alle frizioni relative alla questione ecodistretto, che ha registrato la dura presa di posizione di Spina rispetto alla nuova localizzazione dell'impianto di trattamento rifiuti nella zona della Versana. Il venir meno del rapporto di fiducia sul nominativo in questione, si legge nel decreto, non è riferito a qualsivoglia genere di valutazione afferente a qualità personali o professionali dell'assessore revocato. Nel provvedimento è da intendersi sanzionatorio, ma piuttosto riferito a questioni di natura politica e finalizzato a salvaguardare la serena prosecuzione del mandato amministrativo nell'interesse della collettività rappresentata. Contestualmente è stato operato un rimpasto della Giunta ed è stato nominato il nuovo assessore in sostituzione di Spina, a ricoprire la carica di assessore Dario Vaccaro, attuale presidente del Consiglio. Al suo posto in Consiglio Comunale entrerà Gabriella Vernieri, prima dei non eretti della lista sveglia.